Il professor Herschel Leighton è il protagonista della serie del professor Leighton, archeologo, viva Londra. Insegna archeologia presso l'università di Gress... Gressennel... Vabbè, eccola lì. Viaggia con i suoi apprendisti, Luke e Flora. E un gentiluomo inglese adora bere il tè, è molto coraggioso, intelligente e atletico. Quando sbaglia un enigma si sente in imbarazzo. Il suo orgoglio è la sua macchina, la Leighton Mobile, con un alto tetto perché un gentiluomo non si toglie mai il cappello. Leighton ritiene che anche la prima cosa sono i bisogni di una signora. Ed ecco perché oggi finalmente avrete il 5 cose che non sapete di Professor Leighton. Dopotutto è questo che fa un gentiluomo. Numero 1. Il Professor Leighton è famoso per il suo cilindro. Esageratamente lungo direi anche. Non se l'è mai tolto. O forse sì. Sapevate che il Professor Leighton, il futuro perduto, dopo la morte di Claire, se lo tolse per segno di rispetto? Scena molto toccante anche. Numero 2. Qual è la vera altezza del Professor Leighton? Vi chiederete. Insomma possiamo notare dei suoi 30 cm di tuba, quello sicuramente. Ma se lo mettiamo a fianco di Phoenix Wright, potremmo notare che Phoenix Wright è molto più alto. Le guide ufficiali dicono che l'archeologo sia alto ben 176 cm, compreso il cappello. No, non c'è nessun errore. Significa quindi che con ogni probabilità il Professor Leighton è perfino più basso del metro e cinquantotto. Un bel traguardo, no? La cosa ancora più strana è quindi che Luke non sia più alto del metro e dieci. Ehm, bellissimo direi. Numero 3. In Professor Leighton e la maschera di miracoli è presente un negozio con tre ocarine. La prima si dice che invochi i sentimenti di rabbia e potere, la seconda che spazi via preoccupazione e l'ultima che apre le menti. Più altre cose che ho tralasciato giusto per tagliare un pochettino la frase. Questo è un chiaro easter egg e questo easter egg cita inoltre la Triforza di The Legend of Zelda. Numero 4. Nel Professor Leighton e il futuro perduto vi è un puzzle che si chiama lo scrigno di bandora riaperto. O almeno è così che l'ho tradotto io. Esso sarà l'unico puzzle in cui non verranno dati né aiuti né indizi né ricompense. Giusto per completare un pochettino le cose, no? Una volta che l'avremo risolto ci verrà detto che, bravi, sicuramente avete completato Professor Leighton nello scrigno di Pandora. Numero 5. Nel Professor Leighton e l'eredità degli Aslant vi è l'ufficio di Leon Bronev. Chiedo scusa se l'ho pronunciato male. Nell'ufficio ci sarà una stanza nascosta con alcuni tesori e uno strano cristallo a forma di teschio. Dopo alcune frasi dove Leighton dirà che non è assolutamente interessato a questi teschi, potremmo capire che questo in realtà è un richiamo ad un altro film di un altro archeologo ovvero Indiana Jones. Infatti il film di che stiamo parlando è Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Quindi ragazzi grazie per aver seguito anche questo episodio di 5 cose che non sapete di. Vi lascio nel video, cliccate quella i che praticamente vi apre un sondaggio dove potrete votare direttamente senza andare su altri siti. Mi raccomando ditemi il prossimo che volete vedere e vi lascio una buona lista così almeno siete a posto per un po'. Quindi ragazzi noi ci rivediamo al prossimo episodio di 5 cose che non sapete di. Un saluto a te e ciao ciao. Bellissimi.